Per i ragazzi oggi conoscere le tecnologie significa anche aprirsi al mondo, sempre di più poter trovare occasioni di confronto, di comunicazione, ma anche di crescita personale e professionale. Con questo corso noi formiamo oltre 100 insegnanti di 100 scuole dell'Abruzzo, migliaia di ragazzi che poi svilupperanno progetti all'interno delle loro classi, come il giornalino scolastico, l'app della scuola, il sito internet. Ma tante iniziative che abbiamo visto nella prima edizione sono state vincenti, seguite, appassionanti e quindi abbiamo deciso di riproporre questo progetto e di farlo anche grazie a nuovi partner istituzionali. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i soggetti che ogni giorno sul territorio offrono un contributo su queste tematiche. Partiamo il primo di aprile, il bando uscirà tra qualche giorno, quindi le scuole potranno partecipare già dalla prossima settimana, 25 per provincia, per dare a tutti la possibilità di partecipare. Ricordo che la prima edizione abbiamo avuto oltre il doppio delle domande necessarie e quindi questa larga richiesta che abbiamo avuto delle insegnanti delle scuole l'abbiamo voluta riproporre proprio dando l'opportunità a tutti di partecipare. Il mondo del web, della rete, delle nuove tecnologie è l'unico settore che ancora oggi rappresenta una crescita importante del PIL, del nostro paese, ma in tutto il mondo. Quindi poter essere bravi, professionali in questo settore e esserlo fin da piccoli diventa fondamentale. Conoscere i rischi ma sfruttare soprattutto le opportunità che ci sono perché oggi comunicare non vuol dire soltanto informare i cittadini ma anche crescita, sviluppo, lavoro, trasparenza, velocità.